Caffettino Weekend, il super riepilogone delle news tech di questa settimana. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi, visto che è sabato, facciamo un super riepilogone di tutte le news tech di questa settimana e le analizziamo insieme. Prima di cominciare però ti ricordo che attivo il canale Telegram Mario Moroni Canale, vai dentro, fai follow e non ti perdi nessuna notifica, nessuna iniziativa e soprattutto nessuna puntata podcast che puoi commentare. Se invece vuoi supportare il mio progetto, entra nella community caffettinoclub.it, riceverai benefit, videocorsi e tanto altro ancora, ma avrai la possibilità di aiutarmi nel mio percorso, il Caffettino Podcast. Partiamo subito con le nostre news. Lunedì abbiamo cominciato parlando di algoritmi del Ministero dell'Istruzione, questo algoritmo che deve riposizionare le classi, le cattedre, le supplenze, sebbene ha fatto un bel casino e non ha risolto, ma credo sono passati diversi mesi la situazione. Parto da un bellissimo articolo su Wirehead, ma in realtà ragioniamo anche insieme sul perché quando la pubblica amministrazione lavora nella tecnologia. Sbaglia, quasi sempre obiettivo. Martedì abbiamo parlato di una class action contro Fortnite, che paragona il gioco più importante nel mondo, quello cloud, quello utilizzato da tutti i ragazzi, udite udite alla cocaina. Ci sono degli articoli che vengono portati a supporto di questa class action, che è stata tra l'altro confermata e quindi potrà andare avanti. C'è dal 2019 questa battaglia, mentre Epic ha anche altre battaglie da top privacy da battagliare. Insomma, puntata molto interessante. Il progetto VX di Sony è al centro da puntata di mercoledì perché vuole decifrare le nostre emozioni all'interno del cinema, mentre ci stiamo gustando un bel film, anche se chiaramente in calo le sale cinematografiche, ma molto interessante questo progetto attraverso telecamere, sensori e tanto altro, e riesce a capire come stiamo, se ci stiamo divertendo. Il governo vuole veramente cancellare Speed? E se sì, con che cosa lo si sostituisce? Questa è la news di giovedì su per attualità italiana, un po' a metà tra la politica e tutto quello che è il nostro mondo, chiaramente, dell'innovazione, che è molto molto più lontano rispetto alle praticità politiche, mettiamola così. Andatevi a ascoltare la puntata di Eja Jov. Chiudiamo la settimana con il rapporto di Censys, che definisce gli italiani con sentimenti malinconici e tristi. Caratteristiche del carattere attuale degli italiani, i numeri sono veramente tanti, il report si chiama La Società Italiana al 2022, potete trovare il link di questo rapporto Censys nella descrizione della puntata, ma vale la pena fare anche una bella discussione, una bella chiacchierata riguardo lo stato attuale dei nostri sentimenti, e di come sono direttamente proporzionale l'età delle persone che vivono in questo paese. Questa è la puntata di Riepilogo con tutte le news del nostro caffettino podcast, che per avvi avviso non si ferma a Natale, quindi non si ferma domani, domani è puntata speciale natalizia, non si ferma la settimana prossima. Ogni giorno, sempre se non mi ammalo, non sto male, non mi faccio qualche cosa, con questi pranzi e decenni di Natale può darsi qualsiasi cosa, ma ci sono, ci sono tutti i giorni, tra l'altro il sabato abbiamo anticipato il riepilogone anche grafico della settimana che trovate sui miei social, fatemi sapere anche lì cosa ne pensate, anche di questo test, di questo tentativo, di questo esperimento grafico. Poi chiaramente, come detto, nelle scorse puntate nel 2023 ritornerà la puntata a due voci, per cui se avete anche dei suggerimenti di persone con cui colloquiare, scrivetemelo su LinkedIn, soprattutto mi trovate come Mario Moroni, e anche su Instagram, Mario Moroni, mi chiamo sempre Mario Moroni, non cambio mai come sul canale Telegram, Mario Moroni Canale, mi potete seguire anche lì. Con questo concludiamo la puntata di oggi, ci sentiamo domani, io sono Mario Moroni, questo è il Caffettino Podcast, l'unico podcast, credo, attivo in Italia che parla di tech 7 su 7, 365 puntate l'anno, ed è attivo da più di 1200 puntate, e basta, poi basta numeri, ci sentiamo domani, buona cena di Natale, buona vigilia, e fate i bravi, mi raccomando, che ci sentiamo domani per uno speciale. Ciao!